Torna in piazza San Carlo a Torino domenica 5 marzo Just the Woman I Am, evento di sport, cultura, benessere e socialità, a sostegno della ricerca sul cancro, organizzato dal sistema universitario torinese. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione ha riscosso un grande successo e risonanza su tutto il territorio piemontese e nazionale. Alla presentazione, al retorato dell'Università di Torino, ha partecipato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Un evento in occasione dell'8 marzo, un evento che parla di salute, di sport e di diritti delle donne. È uno dei temi che il nostro Consiglio regionale sta portando avanti come Comitato dei Diritti Umani, come consulta femminile, consulta delle lette e come stati generali dello sport e del benessere. Noi abbiamo come obiettivo quello di promuovere le buone pratiche, stili di vita più sani, favorendo l'attività fisica, creando le condizioni affinché tutti possano fare sport e attività fisica, integrate chiaramente con l'attenzione alimentare. Quindi maggiore consapevolezza, motivazioni e obiettivo da perseguire. Integrando al meglio questi due tipi di attività aumenta il benessere psicofisico della persona, ma soprattutto aumenta il risparmio nelle casse nazionali. Perché dei dati della letteratura scientifica ci viene detto che con un'oretta di camminata in più risparmieremo qualche milione di euro, a livello regionale e anche a livello nazionale. Il 5 marzo in Piazza San Carlo per un evento che parla di donne, di salute e di sport. Beh, credo che sia un connubio perfetto e che sia un evento e un'occasione per tutte le donne come segnale per una buona alimentazione, per uno stile di vita sano, per la protezione della donna in generale. Credo che sia davvero importante esserci e che sia davvero un piacere per tutte le donne.